Anche se la guerra sembra persa, Rovina e Re del Fuoco non possono certo sperare di sconfiggerci. Noi sette siamo un gruppo unito, siamo una vera famiglia. I veri amici che ho sono Ragnarok e Alla Deriva. E si sono nitti altri due, Drake e Jonathan, due pirati molto, ma molto simpatici. E poi c'è Raven, un grande amico. E il Re del Ghiaccio, un vero capo. Noi vinceremo questa guerra perché siamo i veri protettori dell'isola! Ah, eccomi! Finalmente a casa! Ora non mi rimane altro che avvisare il Re del Ghiaccio nel mio ritorno. Chissà dove sarà? Potrebbe essere al trono o potrebbe essere nell'enorme libreria. Mamma mia, si è letto tutti quei libri. Come ha fatto? A me già era scoppiato il cervello a mille, mamma mia. Ma perché c'è una porta aperta? Leo, sono il Re del Ghiaccio. Ti scrivo questa lettera perché rovina e vicino. Rovina è un'identità creata dal Re del Fuoco per sconfiggerci. Aiutami, salvami se sono ancora vivo. Andrò a combattere. Non ti assicuro se riuscirò a vivere ancora... Ancora... Per molto. Il Re del Ghiaccio. Ok, la lettera è stata scritta. Ora non mi rimane altro che uscire fuori a combattere con rovina. Speriamo non mi uccida. Ah, ma guarda qua. Aspettavo da tanto questo momento. Rovina. Anche io. Che cos'hai in quel piccone? La tua energia sei troppo forte. Lo so, caro. Ora ti toccherò e verrai esigliato in una dimensione parallela da dove non ne uscirai. Mai! Addio, vecchio! Corpo di mille balene. Povero ragazzo da affrontare. Solo rovina. Aspetta, corpo di mille balene. Potremmo anche... Non lo so, aiuterlo. Ma certo. Sono vecchio, ma... Quando voglio. So essere fortissimo, corpo di mille balene. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. E wiii. Sano e salvo. Atterrato, corpo di mille balene. Come avevo detto. Ok. Corpo di mille balene. Voglio bere un po' di whisky. Whisky! Il mio whisky! L'avevo lasciato per oggi. Whisky. Oh, sì. Non dimentichiamoci le mie perle di saggezza. Ok. Corpo di mille balene. Aiuterò il ragazzo. Proverò con questo tesoro trovato nel mare. Un porzione magico. Ai! Ai! Ma che cosa? La chiave... Corpo di mille balene. Non avrei mai dovuto fidarmi. Ok. Andare ad aiutare il ragazzo. Anche se non so... Quanto aiuto gli posso dare. Sono un vecchio e... Ma... Aspetta. Ma perché corpo di mille balene? Non ci ho pensato prima. Ma certo. Invece di andare da solo, potrei andare con Drake. Il mio marinaio preferito. Ok. Dovrebbe essere... In coperta. Tra l'altro là le navi corpo di mille balene stanno ancora arrivando. Astuzia. Serve. E quel uomo ce ne ha. Va bene. Andrò a chiamarlo. Ma prima vado a bere un po' di whisky corpo di mille balene. Drake. Corpo di mille balene. Seguimi. Andiamo. Va bene capitano Jonathan. Corpo di mille balene. Vieni qua davanti. Allora. Dobbiamo aiutare il ragazzo. Perché? Combattere la rovina. Ah. Va bene. Tutte e due? Certo. Ci sto capitano. Andiamo. Ok. Il vulcano dovrebbe essere da questa parte. Ma io passo di qui. Bella cittadina. Bella fontana. Molto tema piratesco. Ehi. Oh. Ehm. Chi saresti? Drake. Piacere. Il pirata. Oh. Ciao. Io sono Leonardo. Ciao. Senti. Ho saputo che devi affrontare rovina da solo. Il re del fuoco. Sono testi. Molto forti. Vuoi una mano? Ehm. Non mi dispiacerebbe. Sono rimasto da solo con altri tre amici. Oh. Va bene. Ci possiamo unire. Io. Sono Drake. Lo so. L'hai detto. E il mio capitano. Il capitano Jonathan. Va bene. Io devo andare. Va bene. Sì. Ok. Ciao Drake. Riguardati. Va bene. Oh. Il salvatore dell'isola. Salve. Come stai? Ehi. Dove è rinchiuso il re del ghiaccio? Su. Sputa fuori il rospo. No. Il re del ghiaccio. Devi sapere che non ha dimensione parallela. da cui forse non escerà mai. Tu Ragnarok e quel ragazzo con la maschera non potete certo sperare di sconfiggerci. Giusto? No. Non siamo soli. Nella nostra parte abbiamo anche due pirati. Drake e Jonathan. Senti. Io ora voglio sapere. Dov'è Raven? Non ti interessa? Mi dispiace ma devo tornare. Addio. Oh. Cavolo. Oh. Affrontare tutti quelli zombie da solo sarebbe un rischio. Ehi ma. Re del ghiaccio. Raven. Cosa ci fai qua? Ti vuole aiutare. Sono a capo di questa dimensione parallela. Guarda. Oh. Ma come hai fatto? Te l'ho detto no? L'oscurità è il mio forte. Grandi la cosa. La spada. Quell'esercito sarà decimato. Tra pochi minuti. Ti sei rifatto la voce? Ma certo. Ora sono più figo. Giusto un po'. Vai. Che figata queste spade. Ma certo. Ok. Lascio l'Infinity Blade. Andiamo. Su. Va bene. Re. Dei ghiacci. Posso chiedere di unirmi ufficialmente alla vostra fazione. Vorrei portare l'isola come era un tempo. Va bene. Mi hai salvato. Il minimo che potrei fare è per te. Grazie. D'ora in poi è tutto il mio rispetto vecchio. Che bel calduccio. Ci stava proprio. Ciao Leonardo. Reven? Ciao. Ciao. Ma perché sei di ghiaccio? Il re del ghiaccio mi ha donato questi poteri. L'ho salvato dalla dimensione. Tranquillo. Non sarò sempre così. Il mio forte d'oscurità come pensai. Vieni un attimo. Quindi il re del ghiaccio ti ha accettato nella fazione? Con Ragnarok alla deriva e tutti gli altri? Sì. Ok. Saremo combattenti. Grazie. Del tuo aiuto. Diciamo. Ma di niente. Non ti preoccupare. Anche se la guerra se me ha persa. Rovina e il re del fuoco non possono certo sperare di sconfiggerci. Noi sette siamo un gruppo unito. Siamo una vera famiglia. I veri amici che ho sono Ragnarok e alla deriva. E ci sono nienti altri due. Drake e Jonathan. Due pirati molto ma molto simpatici. E poi c'è Raven. Un grande amico. E il re del ghiaccio. Un vero capo. Noi vinceremo questa guerra. Perché siamo i veri protettori dell'isola. Noi vinceremo questa guerra.